ultimo aggiornamento di oggi con muoversi in toscana ancora mauro ciutini in studio code sulla firenze pisa in a 11 tra sesto fiorentino e firenze per etola la direzione è quella per firenze e in a 1 ci sono code in uscita a firenze sud provenendo da bologna sempre in a 1 il traffico è rallentato anche tra aglio e calenzano in direzione roma attenzione alla pioggia segnalata sulla firenze pisa livorno tra gello e pisa ancora traffico intenso sui viali di circonvallazione a firenze in entrata e in uscita dalla città per quanto riguarda i lavori la tramvia ricordo il 3 maggio ribaltamento del cantiere di via vittorio emanuele secondo tratto del poggetto in chiusura il tempo previsto dal consorzio lamma per domani venerdì residui piogge in mattinata ampie scarite dal pomeriggio sulle zone centro meridionali sereno o poco nuvoloso in serata è tutto muoversi in toscana in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze buona serata domani buona serata domani